Dal 1 gennaio di quest'anno il canone Rai si paga insieme alla corrente elettrica, ma ci sono delle novità ed è possibile compilare un modulo per richiedere l'esenzione del pagamento. Coloro che non rientrano nei casi di esenzione se lo ritroveranno nella bolletta. Lo Stato ha deciso che tutte le abitazioni dove è attiva la corrente elettrica c'è anche un apparecchio televisivo, quindi bisogna pagare il canone. Purtroppo non è stata fatta molta informazione, molte persone lo pagheranno senza sapere che invece possono evitarlo. Le persone che possono evitare di pagare il canone Rai sono quelle con almeno 75 anni di età e un reddito sommato a quello del proprio coniuge non superiore a 6.713 euro ai 98 centesimi annui, non convivente con altri soggetti, versamento già eseguito dall'altro coniuge attraverso il bollettino postale tradizionale, casa data in affitto la cui utenza della luce si è rimasta intestata al titolare dell'immobile, ma la disponibilità del televisore è solo degli inquilini, immobile privo di televisione, seconda casa. In verità in questi casi il problema non dovrebbe porsi perché il canone Rai, secondo le previsioni della legge di stabilità 2016, sarà debitato solo sulle abitazioni principali adibiti a residenza del nucleo familiare. Restano quindi escluse le ulteriori abitazioni come casa al mare, in montagna, immobili a uso e investimento, ottenuti in eredità, per le quali già a monte la società erogatrice del servizio elettrico dovrà evitare l'addebito del canone, probabilmente già in sede di stipula del contratto dovrà essere effettuata un'apposita comunicazione circa l'uso dell'immobile. Questo perché la normativa sul canone Rai prevede che lo stesso debba essere pagato una sola volta per nucleo familiare, a prescindere dal numero di apparecchi televisivi o di immobili posseduti. In ogni caso, qualora si dovesse presentare eventuale disguido e il contribuente dovesse trovarsi addebitato il canone sulla bolletta della luce della seconda casa, sarà bene che proceda inviando il modulo perché è già scaricabile. Per il possesso di tablet, computer, smartphone o console collegate a internet, il canone Rai non è dovuto. Chi non paga il canone non potrà subire l'interruzione della fornitura del servizio elettrico, insomma non si taglia la luce a chi non paga. Il contribuente pertanto resta libero di scegliere di pagare la bolletta della luce decurtando dalla stessa l'importo dovuto a titolo di canone Rai. Se tuttavia l'imposta sulla TV è dovuta, le conseguenze saranno un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, eventualmente previo controllo da parte della Guardia di Finanza, irrogazione di una sanzione pari a cinque volte il canone stesso e in caso di ulteriore inadempimento l'importo viene iscritto al ruolo e la riscossione affidata Equitalia che potrà procedere attraverso le vie ordinarie come ad esempio previa notifica della cartella di pagamento con l'iscrizione al fermo auto. Chi rientra in uno dei casi sopralencati non è tenuto a versare il canone Rai ma deve informare l'Agenzia delle Entrate inviando un'autocertificazione. In alternativa la dichiarazione scaricata e compilata può essere presentata a mano presso l'ufficio delle Entrate più vicino al luogo della pagamento.